Buongiorno ragazzi, benvenuti. Abbiamo la gamma 2018-2019 di Drake con il suo rappresentante più preciso e più tonico, il Drake Podium. È un attacco destinato alle alte velocità, destinato a chi cerca un'enorme stabilità, un'enorme precisione di conduzione e chiaramente lo spoiler in carbonio lo identifica ovviamente come top di gamma anche a livello qualitativo e di tipologia di materiali. A livello di costruzione, la base è la classica base Omnicron Light, è una base in composito di fibre e alluminio. La base è una vera lama, precisissima, leggerissima, molto bella anche da vedere, molto pregiata con questo alluminio a vista spazzolato. La possibilità di regolazione è ottima grazie a questi due carrelli che sono posti nelle intersezioni tra base in fibre e base in alluminio, quindi trovare il proprio fit perfetto per avere una sensibilità ancora maggiore, ancora aumentata, è sicuramente molto facile. Lo spoiler Biomap Carbon Fiber, come vedete ha una leggera simmetria, è in carbonio, sicuramente molto racing, la finitura dello spoiler in carbonio a vista con la tramatura 3K. È uno spoiler estremamente preciso quando vi spostate sulla lamina, ma non così, diciamo, oppressivo quando si tratta di movimento laterale. Questo consente di dedicarsi a tutti quei bellissimi trick in conduzione e in carving che sono molto apprezzati, molto stilosi, devo dire. Mentre il fascione GT Plus è molto comodo, avvolge molto bene, unito all'ammortizzazione del footbed, riesce a rendere il riding molto morbido, molto sensibile anche in conduzione sulle lamine e comodo in generale. Insomma, un attacco veramente iperpreciso, iperstabile, corretto in abbinamento con tavole dalla grande responsabilità, dal grande pop e reattività. È un attacco per chi cerca la piega estrema, per chi cerca le alte velocità, cerca le linee più ripide in fuori pista. Un attacco al quale piace correre nella maniera più assoluta. Se volete provarlo ci sarà in test alle nostre uscite, date un'occhiata sul sito per vedere l'elenco degli eventi. Se avete delle domande su questa bestia oppure sulla gamma in generale, fatecele sulla nostra pagina Facebook o Instagram, nei commenti qua sotto oppure anche mandando una mail a disposizione chiaramente di qualsiasi consiglio o chiarimento. A presto! Boom!